Cari amiche e cari amici, questo è un estratto di un articolo di Francesco Lamedola intitolato Forze colossali anti-italiane siedono nelle istituzioni. Claudio Borghi, economista, deputato della Lega Nord, il 15 aprile scorso aveva postato un video dal contenuto estremamente inquietante ma che conferma di essere in balia di una classe politica istituzionale di traditori, che si è venduta a interessi stranieri e che sta scientemente conducendo il Paese verso il disastro economico, il tracolo sociale, al fine di favorire i loro mandanti, quando, per pagare il debito pubblico, lo Stato si vedrà costretto a mettere le mani sul risparmio privato degli italiani, notoriamente uno dei più alti al mondo, oltre che sul loro patrimonio immobiliare e sulle poche ma notevoli aziende pubbliche ancora remunerative e in buona salute. I principali mass media, i quali parlano senza contraddittorio, non ne hanno dato e non ne danno conto, o se proprio devono invitare qualche voce contro, giusto per salvare un po' la forma, la trattano come si fa con un pericoloso criminale, mentre sono tutti sorrisi e ammiccamenti compiaciuti davanti a ospiti illustri e autorevoli quali Emmanuel Macron, Carola Rachete, Roberto Burioni, Laura Boldrini e naturalmente il Monsignore di Turno, tutto misericordia, accoglienza verso i migranti, un po' meno verso gli italiani impoveriti, sull'esempio del loro santo padre che ha celebrato la Pasqua con le chiese vuote, niente messa per i fedeli, ma in compenso lettere di fervida amicizia, sostegno, ammirazione per l'intrepido difensore dei diritti umani, nonché salvatore dei profughi africani, Luca Casarini. Riportiamo il testo del breve intervento di Burghi. Ci sono forze, come state vedendo, che sono enormi contro il nostro paese e li abbiamo all'interno delle istituzioni, capite? Una cosa è avere soverche forze straniere, carri armati, no? Queste enormi forze sono all'interno delle istituzioni, per cui continuiamo a tenere un atteggiamento molto, molto prudente, perché se ci sono forze così enormi in gioco, tutti siamo a rischio. Dunque, come sempre, noi faremo tutto quanto è il nostro potere. E il primo dovere che noi abbiamo nei vostri confronti è l'informazione, perché è anche grazie a questa informazione, in altre situazioni, le stesse identiche cose sarebbero state fatte tra gli applausi, e non è a poco, eh? Cioè, la stessa manovra, tanto per dire, quella che ha portato Monti in passato era stata fatta tra gli applausi. Se adesso, in questo momento, sono con le spalle al muro e si inventano tutti quegli arzigogoli, tutte quelle sospensioni della democrazia, è anche grazie a questa informazione. Quando c'era Monti, il fiscal compact, il voto sul MES, cose di questo tipo, erano state fatte tutte all'unanimità. Ancora adesso una linea di resistenza di qualche tipo la stiamo tenendo, ma il fatto che siamo in Parlamento, in minoranza, ci mette in gravi difficoltà, per cui la responsabilità di quello che succede è del tutto loro. Dal nostro punto di vista noi stiamo facendo una linea di difesa con tutti i mezzi che possiamo. Voi lo vedete, il minimo che possa fare nei vostri confronti è sincerità e informazione. Grazie. Ecco, adesso, se questo discorso forse è stato fatto da uno dei soliti ben noti complottisti, ossia quei pochi giornalisti e saggisti che da tempo sostengono esistere una congiura di dimensioni planetarie, diretta dall'alta finanza, mirante a sottomettere i popoli con lo strumento del debito, le crisi economiche pilotate, sfruttando il fattore paura, certamente sarebbe stato archiviato. Invece, proviene da un deputato, da un economista, che è anche un professore universitario, che conosce piuttosto bene i meccanismi della finanza internazionale per aver lavorato in grandi banche tedesche e americane, esperienze che lo hanno spinto a maturare la ferma convenzione che l'Italia deve assolutamente uscire dall'euro, riprendersi la sovranità monetaria, se vuole salvare la propria economia. Pertanto, il mondo dell'informazione della cultura mainstream, in teoria, dovrebbe prenderlo sul serio, tenere in debito conto le sue parole, anche eventualmente contestandole, e invece silenzio di tomba. Proprio questa ci sembra la prova del fatto che si tratta di un discorso serio, un discorso che allarma, infastidisce le forze potentissime a cui Borghi fa riferimento. Come chiamare queste forze se non massoneria? Chi conosca anche poco la storia d'Italia sa che l'ombra della massoneria nazionale, ma soprattutto quella internazionale, grava fin da risorgimento e dall'unità su tutte le vicende più importanti del nostro paese, ed è facilmente intuibile dietro ai più grandi misteri e ai più drammatici eventi che ne seguivano il corso. Centamente non si tratta di uno scenario che si possa limitare all'Italia, all'Europa, e certamente più che gli stati le forze di cui si parla sono rappresentate da gruppi bancari, multinazionali, da istituzioni sovranazionali come l'ONU, l'OMS, l'UNESCO, l'UNICEF, la FAO e così via. È chiaro comunque che queste forze hanno preso di mira alcuni paesi in modo particolare, l'Italia tra questi. La ragione? Facilmente intuibile. L'Italia è un paese appetibile per i grandi speculatori finanziari perché il suo popolo detiene tuttora un grosso risparmio privato, un grosso patrimonio immobiliare, la maggioranza degli italiani sono proprietari della casa in cui abitano, spesso anche di quella ricevuta in eredità dai genitori, e senza contare che nonostante tutto possiede ancora delle eccellenti industrie nel settore pubblico. Al tempo stesso, per una serie di ragioni storiche, in Italia non esiste un forte sentimento nazionale, la classe dirigente è sfiduciata nei confronti del popolo paese, perché è imbevuta di esterofilia, compromessa materialmente e moralmente con interessi stranieri. C'è forse da stupirsi se, partendo da simili basi nel corso dei decenni successivi, un gran numero di uomini politici, intellettuali, giornalisti si sono abituati a pensare, a parlare, a lavorare non nell'interesse primario del loro paese, ma in quello di chi li teneva al di propaga, o dal quale dipendevano le loro carriere, i loro privilegi. E c'è da stupirsi se non pochi di essi si sentono più a casa a Londra, a New York, a Parigi, dove peraltro hanno le loro seconde, terze case, i loro attici, le loro brave cattedre universitarie. Sovente anche le medaglie e le patacche di vario genere che quei governi hanno concesso loro per i servizi resi a essi e non certo al loro paese d'origine e del quale, bene o male, sono cittadini. Fermo restando, lo ripetiamo, che i veri soggetti della politica contemporanea non sono più gli stati e quindi i rispettivi governi, ma le grandi banche, le compagnie di assicurazione, le società multinazionali, ossia le elite apolidi della globalizzazione. Ciò avviene anche negli altri paesi, la Francia odierna per esempio. Altro non è che una costruzione della massoneria dove non si muove foglia che i fratelli in Grembiulino non vogliono. La differenza con il nostro paese è che da noi l'occupazione dello Stato risulta ancora più facile, perché le istituzioni repubblicane e democratiche fin dal 1945 sono aperte, apertissime ai suggerimenti, chiamiamoli così, delle loggie dei liberi muratori, dove gli adepti dei grandi inferiori dei grandi inferiori ignorano tutto dei veri fini della società a cui appartengono. Quindi insediarsi in esse non ha richiesto alcuna lotta, non ha praticamente provocato alcuna resistenza, ma è stato facile, liscio come affondare una lama nel burro. Le forze massoniche delle quali stiamo parlando sono inseparabili dalla grande finanza speculativa, formano un tutt'uno con essa. Se fossero forze italiane sarebbero sì delle forze parassitarie, ma restando entro un certo limite, come fanno la mafia o altre grandi organizzazioni criminali, perché il parassita non ha alcun interesse a provocare la morte dell'organismo nel quale si è insediato, visto che da esso trae il suo nutrimento e le possibilità di prosperare. Purtroppo queste forze sono internazionali e più precisamente apolidi. Ciò significa che non sono riconducibili alcun governo, alcuno Stato, anche se si servono volta a volta dei governi degli Stati. Significa anche che sono forze altamente distruttive perché non hanno alcun interesse a mantenere il loro parassitismo entro limiti ragionevoli. Se anche uno Stato fallisce, se un popolo viene ridotto in completa povertà, a loro non importa, perché hanno comunque a disposizione un mercato di schiavi di oltre 7 miliardi di persone da sfruttare. Pertanto, il problema che dovranno affrontare gli italiani, semmai si decideranno a aprire gli occhi e non prestare più fede alle menzogne spuderate di questa classe politica intellettuale di venduti e traditori e volessero riprendersi la loro libertà di cittadini, la loro autonomia nel contesto internazionale, sarà proprio quello di dover lottare contro un nemico, pressoché invisibile, inafferrabile, ma potentissimo, dalle risorse mediatiche e finanziarie pressoché inesauribili. Un solo esempio, come individuare la vera proprietà di una certa multinazionale quando è già difficile perfino capire dove abbia le sedi legali e amministrative, ma soprattutto come riprendersi la propria sovranità, quando non si dispone più della propria moneta, quando la maggior istituzione finanziaria nazionale, la Banca d'Italia, si trova già sotto scacco da parte del potere finanziario. Ricordiamo le parole del dottor Shiva Ayadurai, candidato repubblicano statunitense alla carica di governatore del Massachusetts, nel corso di un'intervista televisiva, in cui parlava, tra le altre cose, dell'epidemia di coronavirus. La mia opinione è che se credi nel concetto di un insieme di persone alle quali non importano i singoli interessi nazionali, ma sono più attenti al loro interesse globale, riusciresti a visualizzare lo scenario in cui il virus è stato creato dal deep state americano e mandato là fuori. Ecco, parole simili furono pronunciate a suo tempo dall'allora presidente Monti, messo lì da una congiura della Banca Centrale Europea ai danni dell'Italia, e Monti disse «Ma quali poteri forti? In Italia non ce ne sono». Ed è vero, i poteri forti italiani sono tutti subalterni ai veri poteri forti, quelli della massoneria finanziaria globalista. Ma è pur vero che, quel che dice Borghi, nel 2011 il governo Monti venne salutato come salvatore della patria. Oggi il governo Conte II si è insediato nel disprezzo generale e anche i più sprovveduti sospettano che le folli misure assunte per fronteggiare la presunta epidemia siano solo l'espediente per imbavagliare le opposizioni e far passare la richiesta d'aiuti al mess che sarebbe l'ultimo chiodo sulla nostra bara. Bene cari amiche e cari amici, un pollice su per il mio lavoro, sempre incollati al decimo toro. Un caro abbraccio a tutti, Marco Cosmo.